Imprendibile e oggi quantomeno ridotta ad una fuga a uno e anche il distacco sul Milan è colmabile. Il clima in casa di Milan nel Lazio non è sereno, non è scevro da preoccupazioni come potrebbe sembrare. Per una crisi societaria i cui i risvolti sono ormai fin troppo noti, la Lazio ha toccato tutti o quasi i punti negativi di un traballante andare. La contestazione dei tifosi, quella dei giocatori non pagati puntualmente con gli stipendi, gli scontri al vertice, i problemi tra Lenzini e i nuovi soci. Era in un certo senso inevitabile che la squadra ne risentisse e ne ha risentito maggiormente proprio nel momento in cui, un punto solo in due trasferte nelle Puglie, la società sembra aver risolto i suoi attavici problemi e poiché le avversità sono spesso come le ciliegie, a prove negative si aggiungono le mancanze di uomini importanti come Bigon e Sanguine. Grazie a tutti.